... Condividere stili e modalità di organizzazione per muoversi verso un comune modello europeo. E' questo lo scopo della missione della categoria acconciatori ed estetisti di Asso Artigiani a Francoforte, la città immagine dell'economia tedesca. Uno scambio utile di informazioni fra gli operatori vicentini e i colleghi tedeschi per dare nuovi stimoli alla professione. Se Vicenza è, per le sue caratteristiche, un modello economico, città simbolo dell'economia del nord-est, Francoforte è la città simbolo non solo dell'economia tedesca, ma anche europea. Lo scambio di informazioni fra le imprese e gli operatori economici di queste due realtà può offrire dunque ulteriori stimoli e vantaggi a due sistemi già dinamici ed avanzati. Una recente missione di Asso Artigiani ha avuto proprio questo obiettivo. Guidati dal presidente di categoria, Walter Casarotto, gli operatori vicentini dei servizi alla persona hanno infatti potuto conoscere le peculiarità, oltre che i difetti, del modello tedesco. Dalla figura del maestro, alla legislazione in materia di attrezzature, dall'accesso alla professione, alla formazione. Dalla Germania arrivano così spunti per un intervento concreto sulla modalità di organizzazione delle aziende di settore. Sentiamo Walter Casarotto. L'acconciatore in Germania, dopo un periodo di tirocinio per aprire le attività, deve obbligatoriamente essere maestro. E questo lo qualifica anche per l'assunzione di dipendenti. Chi non è maestro, oggi in Germania, non può avere dipendenti apprendisti. Deve obbligatoriamente avere dei dipendenti solo operaie. Quindi questo con un costo contributivo diverso. Primo, abbiamo visto in Germania la legge sulla liberalizzazione degli orari. Ciò che sta avvenendo e che dovrà avvenire a breve anche in Italia. Abbiamo visto i colleghi che hanno le nostre stesse esigenze. E di fatti anche lì in Germania, nella totalità, c'è una diminuzione del numero degli addetti. Però è anche vero che c'è una chiusura di attività di persone che sono ancora in età lavorativa. E quindi si cerca di creare anche in Germania l'aggregazione. E quindi l'aggregazione che porta dopo all'affitto della poltrona. L'affitto della poltrona che in Germania è presente con qualche difficoltà. E noi abbiamo colto l'occasione per prendere quello che più ci interessa. Cercare di sviscerarlo per portarlo a casa nostra. E risolvere quindi questo nuovo evento nella categoria nel miglior modo possibile.